Ogni anno, oltre 600.000 volontari in tutta Italia liberano dai rifiuti 4.000 località in oltre 1.700 comuni. Più del 50% di questi volontari sono studenti. CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana, aiuta le associazioni di volontariato con progetti mirati e gratuiti. Il volontariato toscano ha i numeri. Campagna promossa da CESVOT. Campagna promossa da CESVOT.